Non riesco a scrivere di storie altrui, mi viene molto naturale appunto scrivere di quello che mi accade, è una sorta di valvola di sfogo, mi viene molto difficile vedere e ho anche invidia per chi lo fa, che vede una cosa, una situazione, sente una storia e ci scrive su una bella canzone. Da anice in bocca a questo disco qua sono cambiato un po' di cose, però se prendi anche alcuni pezzi di quest'ultimo disco potevano anche stare là dentro volendo, diciamo che nel tempo mi è venuto naturale scrivere delle canzoni più in forma canzone. Non sono abituato a ragionare a dischi, cioè a dire ok devo fare il disco nuovo, mi chiudo in studio piuttosto che mi chiudo là e scrivo il disco nuovo. Solitamente quando mi viene una canzone la faccio, adesso ne ho appena scritte due, quando mi escono escono, poi quando ne ho abbastanza per fare un disco faccio un disco. Come sei complicato, i rane vogliono di semplici. 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 Assolutamente. CheBravo a ragionare a dischi?